Servirà ancora un po' di tempo per conoscere le cause della morte di Francesca Colombo, la 62enne deceduta all'ospedale di Patti lo scorso 10 agosto. La donna, residente a Legnano, si trovava a Librizi per trascorrere qualche giorno di vacanza con il marito Giuseppe Balletta, 64 anni, originario proprio del piccolo paesino del Messinese, con loro il figlio di 19 anni. Secondo l'esposto presentato dal marito, la donna era stata portata al pronto soccorso dell'ospedale il 7 agosto perché accusava forti dolori addominali, dopo otto ore di attesa è stata dimessa. I medici avrebbero detto alla famiglia che si trattava di una indigestione e avrebbero prescritto alla donna un protettore gastrico. Malgrado si fosse attenuta alle prescrizioni, i dolori per Francesca non si sono mai attenuati e due giorni dopo, il 9 agosto, è tornata in ospedale, dove dopo la visita gli è stata diagnosticata una occlusione intestinale che richiedeva un intervento chirurgico d'urgenza, ma per la 62enne ormai era troppo tardi. L'indagine della procura di patti, guidata da Angelo Cavallo, che ha affidato il caso alla sostituta Antonietta Ardizzone, mira adesso a capire cosa sia accaduto alla donna e soprattutto se poteva essere salvata. Il medico legale incaricato dell'autopsia, il dottore Alessio Asmundo, si è riservato almeno due mesi per rassegnare le sue conclusioni. Intanto i carabinieri hanno acquisito la cartella clinica e tutti gli altri incartamenti. La tragedia accende di nuovo i riflettori su patti, lo stesso ospedale dove a inizio mese cercarono di contenere una frattura alla gamba di un ragazzo utilizzando del cartone, anziché le stecche in dotazione a qualsiasi presidio di pronto intervento. Il direttore sanitario dell'ospedale, Giovanni Merlo, ha dichiarato di stare raccogliendo tutte le cartelle cliniche. L'esito di ogni esame eseguito durante l'osservazione e il successivo ricovero, in modo da offrire alla magistratura il massimo della trasparenza e della collaborazione.